Benvenuti nella seconda parte del solo di Mike Stern. Questa sezione è un pochino più complicata, ma sono convinto che ci riuscirete. Vediamo come suonarla. Questa è un pochino più complicata. Questa è un pochino più complicata. tenete presente che non è la velocità il fattore determinante in questo assunto bensì la pronuncia, il fraseggio e saperlo suonare a tempo ci vediamo nella prossima lezione per i link che ho selezionato per voi ciao ragazzi